Gli agenti del commissariato di Fano hanno fermato un 22enne di origine laziale considerato l'autore di decine di truffe in tutta Italia mediante la tecnica della rottura dello specchietto. I poliziotti avevano notato un'autosospetta che, in orario mattutino, accelerava e decelerava in prossimità di rotatori e semafori. Quando il conducente si era fermato lungo la trafficata via Canale Albani è stato controllato dai poliziotti mentre stava prelevando, nascosti sotto il sedile dell'auto, alcuni sassolini utilizzati solitamente per colpire gli specchietti retrovisori dei malcapitati automobilisti per poi chiedere loro risarcimento in denaro contante. Il giovane, che è stato bloccato prima che agisse contro alcune autovetture in coda, nelle vicinanze di un incrocio regolato da semaforo, è stato subito identificato. La posizione del giovane ora è attualmente al vaglio dei poliziotti. Il commissariato invita i cittadini a segnalare sempre con prontezza alla Polizia di Stato eventuali simili episodi al fine di consentire nell'immediatezza dei fatti le opportune verifiche.